13 arresti, 15 denunce, sequestri di armi, droga e di un gemmer e il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato in diverse province del nord della Puglia, in particolare nei centri ad alta densità criminale di Cerignola, Andrea e Bitonto, luoghi di spaccio e intimidazioni. L'operazione alto impatto ha coinvolto 400 agenti coordinati dal servizio centrale operativo della direzione centrale anticrimine. Una nuova modalità di intervento sul territorio spiega la Polizia di Stato che si avvale delle tecniche investigative più avanzate. Nel corso delle operazioni sono state identificate oltre 11.000 persone, sequestrate armi e materiale tipicamente utilizzato per le rapine e furgoni portavalori, incluso un gemmer, un'attrezzatura utilizzata per violare le frequenze di strumenti di telecomunicazione in uso anche alle forze dell'ordine. A Cerignola l'operazione si è concentrata nel quartiere noto come Fortapascio per le attività di spaccio e ritenuto centro di pianificazione di molti assalti a furgoni portavalori in tutta Italia, sequestrati inoltre 9.000 pezzi di ricambio di autovetture di alta gamma destinati alla vendita sul territorio nazionale. Le contestazioni a carico degli indagati riguardano il possesso abusivo di armi e stupefacenti e la pianificazione e l'esecuzione di assalti a furgoni portavalori.